ora si c'è lo stream buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti al nostro primo appuntamento settimanale in live su twitch come va tutto bene spero di sì perché io oggi sono molto molto speranzoso di vedere dopo tantissime volte che lo auspichiamo e che ce lo auguriamo il famigerato hashtag pump in diretta esattamente come vedete dipinto qua sul grafico cerchiamo di fare questo buon auspicio insomma spero di vedervi belli numerosi perché ho sentito dire che più siamo e più probabilità c'è di vedere il pump in diretta non so se avete sentito questa voce anche voi quindi voglio che ci mangiamo questi 12k che ci mangiamo i massimi e che arriviamo all'all time high esattamente oggi in questo istante entro le ore 19 durante questo live no allora a parte gli scherzi adesso non voglio fare il il fomo meno il moon boy che poi youtube mi banna mi inizia a dire no non smettila di incentivare a comprare bitcoin no allora che dire io intanto vedo che qualcuno ha notato la luce perché da bravo youtuber ormai tutti mi chiamano youtuber anche se non lo so io sono assolutamente improvvisato come youtuber ho deciso di fare una cosa che effettivamente è da youtuber aspettate che vi mostro a parte l'oscenità di questa stanza il cavo corto ovviamente tac eccola la luce veramente da da youtuber pro non fate caso al resto ve l'ho detto perché è veramente agghiacciante l'ordine in questa stanza anzi non esistente a dir poco comunque che dire io oggi sono qui con voi per commentare come sempre faccio la mia fila strocca di apertura il mercato i grafici quello che accade nel mondo delle cripto quello che è accaduto in questa settimana quello che accadrà quello che sta accadendo i fatti più interessanti dal punto di vista fondamentale e del mercato vedo che già voi notate che le altcoin stanno prendendo delle legnate senza senso in particolare cro e infatti ti dico una cosa carissimo io sai cosa farò proprio per sfruttare questo dump di cro è la volta buona che acquisto che ordino una card che non sia la barbon blu perché io la chiamo così ho la carta della cripto.com quella da pezzente proprio da zero cro quella per entry level e sarà giunto il momento insomma di provarne una un po' più carina no così posso fare anche un po' il fenomeno e dire che ho la carta un po' figa anch'io perché sono l'unico rimasto credo ad avere il plasticone quindi potrebbe essere esattamente la l'occasione esatta e infatti qualcuno dice all'ultima live hai detto che ti stavi avvicinando a cro avrei portato un po' sfiga dato il dampone del 30 per cento cosa ne pensi di questa picchiata ho visto che adesso devo ancora avvicinarmi un po' perché nel caso devo fare una strategia d'ingresso anche lì in ogni caso il discorso dipende penso da due fattori principalmente il primo che hanno cambiato un po' di politiche senza troppo preavviso in cripto.com e molti l'hanno presa non benissimo ho notato perché non c'è stata molta comunicazione da parte dell'azienda dei cambiamenti che che hanno deciso di implementare dal giorno alla notte proprio e la seconda cosa il damp delle altcoins che oggi come vedete non è che stiano performando benissimo tant'è che io stesso vedo che qualcuno ma anticipato ho intenzione di chiudere con buona probabilità la posizione come anticipato su telegram poc'anzi in bnb perché sta perdendo anche bnb il suo costrutto comunque bullish di questo ne parliamo dopo perché dei grafici ovviamente ne parliamo nell'ultimo nell'ultima tranche negli ultimi 20 minuti nell'ultima mezz'oretta all'inizio invece cominciamo con le vostre domande ok quindi vi voglio belli carichi vi voglio sul pezzissimo e a proposito di live a proposito di domande vi anticipo ditemi cosa ne pensate di questa iniziativa che avrò ospiti adesso li sto pressando ma li ho li ho convinti insomma quindi penso proprio che ci saranno abbiamo anche ipotizzato una papabile data potrebbe essere martedì prossimo quindi la prossima settimana oggi cioè tra sette giorni esatti potrebbero esserci come ospiti nel live una una persona di blog fai ed è un'occasione imperdibile perché so che molti di voi utilizzano blog fai e quindi lo potrete prendere d'assalto con le domande più moleste e più scomode che vi vengono in mente e quindi io farò da traduttore italiano inglese simultaneo un po come abbiamo fatto con seb di the sandbox quindi sfoggerò il mio inglese iper maccheronico proprio da 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 non so neanche come definirlo e quindi e no purtroppo la founder non c'è qualcuno ieri su discord quando ho annunciato appunto che ci sarà ospite una persona di blog fai mi ha linkato un video di un'intervista con la founder che che dire io vi consiglio di buttarci un occhio perché merita cioè anche solo da vedere merita e ovviamente a me hanno appioppato un maschio chiaramente e basta quindi vabbè ci accontentiamo di quello che ci danno però secondo me a parte gli scherzi sarà veramente interessante perché sarà la prima volta che faranno una un ask me anything in italia col traduttore simultaneo ovviamente sarà un'opportunità per voi per chiedergli magari qualche cosa io sto già raccogliendo un po di domande che ho visto che mi avete già bombardato quindi probabilmente un'ora non basterà ma cercheremo di condensare se vi vengono in mente se non riuscite ad esserci ditemelo su discord che ho creato un canale a posto altrimenti vi aspetto lì vi darò conferma ufficiale su telegram nei prossimi giorni e quindi niente questa è una cosa la seconda cosa è che vi voglio sul pezzissimo carichissimi e pieni di domande anche oggi quindi mi raccomando disintegrate questa chat riempitela di domande riempitela di messaggi partecipate mi raccomando perché il bello di queste live è che proprio voi decidete gli argomenti ok quindi iniziamo proprio così iniziamo con le uniche e inimitabili vostre domande eccoci avevo perso di vista la chat e mi stavo spaventando buonasera a tutti super pump speriamo e speriamo perché siamo veramente lì lì oggi potrebbe essere la giornata giusta io non lo dico più perché di solito quando lo dico porto sfiga quindi io adesso me ne sto zitto non lo dico più lo tengo scritto lì come monito ecco per il mercato sappi che devi fare questo basta to the moon ovvio ovvio ciao luke hai provato homora alfa finance quello nel launch di binance non ancora mi sembra molto interessante come farming con possibilità di utilizzare anche la leva un tuo giudizio approfondimento sarebbe gradito grazie guarda adesso non vedo l'ora che passi la prossima settimana perché sarò finalmente al 100% nelle crypto per chi non lo sapesse ho dato le dimissioni e mi dedicherò alle crypto perché adesso ho un elenco incredibilmente lungo di piattaforme da andare ad approfondire ok quindi ci aggiungerò sicuramente anche questa ho visto che qualcun altro prima buttava un occhio sulle domande in tempo reale e ma già detto ma già menzionato una piattaforma che ho scoperto sempre grazie a voi simone se ci sei ti ringrazio il nostro amico di discord che si chiama barn bridge che è molto interessante e ne parleremo in un video a parte quindi insomma c'è veramente tanto da seguire da approfondire ne vale sempre la pena ci vuole soltanto del gran tempo e quindi niente ciao luke eccoci pronti per i 12k prontissimi buona serata buona serata anche a te ciao luca ma l'incuore ecco esatto ho deciso di vendere i miei bnb visto il dump delle altcoin valutando un possibile riacquisto prossimamente guarda non non ti posso biasimare perché effettivamente anche bnb che è una delle altcoin che mi stanno più a cuore lo sapete rischia di perdere il suo costrutto bullish è brutta la situazione in tutte le altcoin ma anche su ethereum non so se avete notato infatti io sono attanto così dal fulminare tutte le mie posizioni in altcoin se tra poco vediamo quali saranno i criteri per farlo quindi insomma quando andiamo a parlare dei grafici e degli aggiornamenti sulle mie posizioni ovviamente ne parliamo per forza di cose buongiorno a tutti ciao luca la luce diversa esatto ciao grande è da tanto che non riesco a vederti live spero di portare fortuna per un pump in diretta mi raccomando più siete e più possibilità c'è di pompare quindi mi raccomando tutti dentro e tutti a scrivere pump in diretta nella chat così arriviamo a 12k sì ormai sono già proiettato nel futuro ciao grande vice in holder c'è anche lui stasera ma ciao bentornato buonasera a tutti ciao ciao luca ciao criptofili ma ciao giuseppe anche a te uno streamer professionale ma puoi ben dirlo ormai chi mi ferma più buonasera luca sempre presente le tue live tifo per il pump in diretta oggi l'hashtag è pump in diretta dai e luca che ci porti fortuna e bitcoin to the moon speriamo speriamo qua ovviamente mi prendete in giro perché ho nominato cro e l'ho fatto dampare non è la prima volta tra l'altro perché un'altra volta avevo detto tra l'altro mi hanno fatto un meme anche su discord che hanno incollato il mio messaggio su discord dove dicevo ma quasi quasi ordino la carta acquisto qualche cro ed era poco proprio durante il dump cioè poco prima è stato molto molto divertente e ma quel ring va sparato in faccia abbassalo un pochetto dai sì forse non ho avuto cognizione ma anche perché è una roba mastodontica non me l'aspettavo così grande e soprattutto è luminosissimo aspetta che lo abbasso per davvero facciamo una cosa ecco che altrimenti mi abbronzo tempo di arrivare alla fine del live ok benissimo vedete questo poi mi dite che sono uno streamer professionista ma non ci credo nemmeno io allora nonostante l'argomento caldo sia inevitabilmente btc voglio farti una domanda sulla defy ma che è sempre calda anche lei secondo te se vedesse effettivamente regolamentata non si rischierebbe di farla sparire in più ti scillo un progetto si chiama burn bridge bravo proprio tu proprio tu allora riguardo la defy e le regolamentazioni io non riesco bene a capire ho un rapporto un po' di ambivalenza cioè non lo so nel senso secondo me vedendo il ritmo con cui le regolamentazioni progrediscono oddio prima di arrivare alla defy e di riuscire a metterci dentro il naso cioè veramente ce ne vorrà di tempo parlo della defy più de perché ovviamente c'è una pseudo defy che sono piattaforme come uniswap per dirne una che in realtà hanno dietro degli investitori ben conosciuti ok perché si sa benissimo chi è che ha investito capitali per creare per far crescere la piattaforma uniswap quindi ovviamente se i regolamentatori vanno a prenderli uno due tre quattro gli dicono adesso ho dato un taglio e cominciate a fare anche voi kyc assurdità di questo tipo oppure fermate la piattaforma certo uno può dire ok si però uno smart contract continua a girare tutto quanto però se tiri via un po' le forze principali che ci sono dietro non lo so sinceramente non so nemmeno che cosa pensare davvero io credo che non sarà facile ripeto regolamentarla e non ce ne sarà neanche interesse nell'immediato però proiettandoci in avanti credo che anche la defy finirà poi sotto gli occhi delle regolamentazioni quindi si dovrà in un certo qual modo non dico piegare ma dovrà parlare un po' con i regolamentatori proprio per trovare un punto medio una via di mezzo un compromesso per collaborare per cercare di lavorare insieme nel modo migliore possibile senza ovviamente perdere la decentralizzazione da un lato perché altrimenti poi la defy diventa cefai e siamo tutti fessi come prima ma dall'altro lato senza che cioè dandoci una regolamentazione cioè sapere come pagarci sopra le tasse sapere che puoi depositare i fondi lì tranquillamente senza passare per criminale tutte queste cose di questo tipo qua per adesso siamo veramente ancora indietro indietro anni luce quindi probabilmente se parli a qualcuno di defy non so provate ad esempio ad andare dal vostro commercialista e dirgli ma come si tassa che ne so io guardo ho fatto da liquidity provider su un swap ti spiego praticamente tu farmi il token mettendo liquidità guadagni dalle fee dei market maker eccetera eccetera probabilmente lui vi guarda così tipo sì cioè cos'è che fai più o meno e quindi niente in sostanza è veramente già stanno capendo a malapena di che cosa si tratta parlando di bitcoin figuriamoci arrivare alla defy cioè sicuramente in una strada futura ci arriveremo però veramente siamo ancora indietrissimo qualcuno dice basta regolare le stable e la defy lo prende in quel posto ma non è caso le stable stanno andando in quella direzione lì è perché abbiamo usdc che è la stable coin regolamentata per eccellenza la cui popolarità è in crescita parabolica qui vedo che gente si continua ad abbonare io vi amo siete i numeri 1 continuate così spingete 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 e usdc è in crescita parabolica e le altre stable coins stanno magari un po perdendo trazione usdt ovviamente rimane la stable coin perché è un po la first mover è un po quella più distribuita anche sugli exchange però insomma c'è il rischio che effettivamente se qualcuno tira giù una stangata contro usdt voglio poi vedere la diffidenza nei confronti delle stable coin dove porta anche appunto lato defy ci sono un sacco di temi di cui parlare effettivamente dico su cui riflettere però la vedo una cosa veramente ancora fuori dalla comprensione dei più in particolare dei regolamentatori stessi quindi non lo so la mia idea è un po questa poi se avete qualche idea anche voi ditemelo mi raccomando ne discutiamo a quando la villa invece dello stanzino la scusa di btc a 100k non funziona no e ciao ormai io sono qua nel mio questo sarà il mio ufficio il mio stanzino ciao luca ciao a tutti eccolo il lupo di wall street il lupo di crypto street luca possiamo guardare swipe vedi un possibile entry oddio swipe è un grafico che sta scavando il fondo da tipo sempre andiamolo a vedere tra l'altro swipe madonna possibile entry short intendi no non lo so cioè ha appena rotto un altro supporto tra l'altro swipe no scusate questo 10.460 il prossimo supporto è questo qua se proprio vogliamo andarlo a vedere la zona 8500 dintorni ma cioè veramente una tragedia un grafico che è urla urla di dolore solo guardarlo mi sento male anch'io a guardare un grafico così perché veramente sembra ripple negli anni d'oro no è abbastanza ghiacciante cioè prima che si inverta un trend così forte a ribasso ce ne vuole tanto di tempo quindi io personalmente ne starei fuori questa è un po la mia idea si è spostato pump in diretta way way come ti permetti allora ritorniamo a noi ciao luca hai qualche notizia e ho previsione per quanto riguarda light coin guarda previsione magari lo potrei chiedere alla mia sfera di cristallo notizia non ne ho però andiamo a vedere che cosa dice allora c'è una scritta aspetta cosa dice la mia sfera di cristallo c'è scritto shit coin ok niente shit coin sono abbastanza d'accordo ecco la mia sfera di cristallo oggi non non mi piace molto no scherzi a parte light coin non ha il mio parere è che non ha ragione di esistere poi qualcuno la può pensare diversamente ma io credo che non abbia veramente ragione di esistere ciao luca due domande di base esiste un prezzo di riferimento di bitcoin o altra cripto varia da exchange exchange bella domanda due due futures a scadenza a stessa scadenza ma su diverso exchange avranno lo stesso prezzo a maturazione bella domanda anche questa mi sei molto molto piaciuto complimenti allora ti rispondo subito la prima domanda esiste un prezzo di riferimento guarda il prezzo di riferimento di solito cross market lo fa un po il mercato dell'arbitraggio nel senso che ovviamente se due exchange quotano bitcoin a due prezzi clamorosamente diversi i cosiddetti arbitrageur come dicono i francesi ovvero coloro che fanno arbitraggi tenderanno poi ad appianarlo perché affinché c'è un'inefficienza immaginatevi che ne so che adesso dovesse valere 10.500 da una parte 12.000 da un'altra ovviamente con botto ovviamente con capitali alti si potrebbero fare valangate di soldi soltanto sfruttando questa inefficienza quindi solitamente gli exchange più liquidi quanto meno e gli exchange più utilizzati perché ovviamente se mi prendete un it btc un exchange che è nato ieri che probabilmente scomparirà domani potrebbe sembrare di offrire opportunità di arbitraggio ma la verità è che nessuno opera lì sopra nemmeno chi fa arbitraggio perché non si fida e sono pienamente d'accordo con lui quindi se prendiamo i big gli exchange quindi con la e maiuscola quali sicuri quali principali che tutti usano e che hanno liquidità e volumi fondamentalmente il prezzo non dovrebbe differire più di tanto per questo motivo perché se lo facesse ci sarebbe qualcuno che sarebbe molto incentivato ad appianare questa differenza e quindi si ridurrebbe in maniera abbastanza rapida detto questo non esiste di fatto un prezzo di riferimento nel senso di prezzo ufficiale tra virgolette di bitcoin perché ogni exchange di fatto ha il suo ok può differire in alcuni momenti di volatilità magari può differire di più da più essere più alto da una parte più basso dall'altra e così via però fondamentalmente non c'è una regola che dice che il prezzo di bitcoin deve essere tot non deve discostarsi da tot proprio perché ogni exchange fa il suo e l'arbitraggio dovrebbe tendere ad appianarli la seconda domanda due futures a stessa scadenza ma su diversi exchange non hanno lo stesso prezzo a maturazione o meglio non per forza perché ogni exchange di futures quota il suo indice quindi vi faccio un esempio che ne so se utilizziamo binance futures lui avrà il suo indice sul quale quota il future ok magari alcuni exchange hanno l'indice che va a mediare prezzi di altre piattaforme che ne so va a mediare coinbase bitstamp bitfinex eccetera per avere un prezzo un po più equo un po più cioè un po meno suscettibile magari agli spike ai movimenti ed è una cosa buona e giusta però appunto ogni exchange ha il suo indice di riferimento e solitamente il future matura a scadenza al valore dell'indice di riferimento che può essere banalmente lo spot market dell'exchange stesso o ve l'ho detto una media su altri exchange grazie per le domande i 12k ci fanno un baffo adesso vedo che qua stiamo già tirando un pelino il freno bitcoin che ne stai a combina ciao mi consiglio un buon indicatore di intelligenza artificiale per avere una previsione dell'andamento di bitcoin eccolo questo no scherzi a parte guarda io ti disincentivo dal dall'inseguire questo questa chimera della previsione perché non esiste secondo me mio parere personalissimo nessuna intelligenza artificiale in grado di prevedere i mercati perché se esistesse ovviamente qualcuno sarebbe molto ricco e poi ci sarebbe da disquisire sul quanto funzionerebbe perché se esistesse qualcuno la utilizzasse sarebbe poi counter tradabile in qualche modo arriverebbe magari a saturazione inizierebbe a non funzionare più non lo so pipe mentali tuttavia io credo personalmente che non esista uno strumento in grado di predire il prezzo di bitcoin nel futuro né utilizzando i dati storici né men che meno utilizzando il sentiment o i dati gli on chain data vanno molto di moda degli indicatori che vanno a vedere i movimenti sulla blockchain e cercano in qualche modo di correlarli all'andamento del prezzo secondo me sono delle gigantesche ciclopiche pippe mentali che sono più le volte che non funzionano che quelle che si quindi io la vedo così personalmente luca facci sapere quando poi ti arriva la carta perché già da più di un mese che aspetto la ruby steel quella da barbone con la quinta elementare beh sei già meno barbone di me sappilo e io ti dico io l'avevo ordinata però so che quelle da barbone ci mettono di più di più ad arrivare sì perché giustamente noi barboni siamo gli ultimi ed è giusto così la mia blu quella la barbon blu la chiamo ormai la carta che è la midnight blue ma mi piace di più barbon blu perché è veramente da barbone ci ha messo 5 mesi qualcosa del genere 5 mesi tutti che li ho tutti passati allo specchio a guardarmi a dire quanto sei barbone e me lo sono meritato però no scherzi a parte ne è valsa la pena perché poi quella carta è stata da 10 e infatti la recensirò e adesso volevo fare l'upgrade ho avuto un po' il colpo di culo che insomma cro è dampato mi spiace per chi di voi lo holda però credo che ne approfitterò allora niente andiamo avanti ciao luke secondo te ancora valido quell'entry point su teta su teta dov'è 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 allora teta btc teta è da analizzare da analizzare allora su teta andiamo a vedere per il settimanale stiamo ritestando il top settimanale wow punto importante questo è con violenza tra l'altro qua c'è anche un clasterino verde facciamolo e poi sotto c'è un altro clasterino sul settimanale sempre e non lo so perché che si fermi qui dopo un pump del genere non sarebbe male però io credo così a naso vedo più probabile un'altra onda cioè una cosa tipo così magari penso e su questo tra l'altro non mi fiderei neanche a entrare anticipatamente qui perché ho perso un po' questa volontà di aprire posizioni anticipatrici sulle alt ma preferirei vedere appunto questo movimento il reclaim di qua sopra e allora qua si entrare questo mi piacerebbe però vedrei già un segno di volontà di recupero entrare qui così alla cieca o peggio ancora adesso sarebbe veramente un voler buttarsi è vero si diciamo c'è il trend che è bullish il macro è bullish abbiamo rotto il livello storico settimanale adesso lo stiamo ritestando quindi non è proprio un trade alla cieca è la verità questa però insomma al minimo allora di aspettare qualche segno di domanda su time frame giornaliero che so io un reclaim di questa zona per esempio oppure se dovessimo adesso lateralizzare un po' un doppio minimo oppure altro esempio facciamo una respinta lateralizziamo un po' facciamo un higher low qua qualcosa di questo tipo insomma però che non sia un long alla cieca perché sulle altcoins è un rischio in particolare in una situazione come questa dove la bitcoin dominance sta sanguinando tanto vedete ha rotto questo costrutto la bitcoin dominance a rialzo e quindi non è proprio il momento in cui buttarsi sulle altcoins anzi io credo che mi ritrarrò ecco e niente questo è un po' la mia visione della tua domanda torniamo sul daily pumping diretta in bella vista e che porti bene allora anche io volevo cambiare la carta barbon blue non midnight blue si chiama barbon blue a quella ruby red però per avere la nuova carta in metallo chiedono una eh sì è vero la tassa di riemissione di 50 euro è vero è vero e sì rimarrò con la carta bluma con i vantaggi della rossa sì effettivamente è vero ti chiedono 50 euro eh ho dimenticato questo dettaglio di tassa di riemissione 50 euro manco fosse d'oro la carta eh vabbè eh vabbè ciao ti segui in macchina grandissimo cosa ne pensi di pancake swap è il primo liquidity provider su binance smart chain offre buoni rendimenti e le fissono molto basse volevo recensirlo è una delle n piattaforme che sono interessanti tra l'altro ne avevo approfondito perché c'è un giro interessante sempre per chi vuole farmare ai massimi di mettere liquidità guadagnare il come si chiama cake mi pare poi col cake puoi guadagnare syrup se non erro e se tu fornisci liquidità poi nel pool insomma non ricordo bene come guadagni altri cake quindi è una sorta di farming esponenziale ed effettivamente le fee sono pressoché nulle perché su binance smart chain le fee non esistono o quasi e la liquidità è alta quindi ne vale la pena anche lì si basa tutto ovviamente sul fatto che il token cake è è abbastanza in crescita aspettate che vi posto il grafico coin market cap eccoci allora ovviamente tutte tutte quelle piattaforme lì ce la facciamo ok dai forza ok bravissimo ecco ci ha dampato però in realtà l'andamento non è malaccio insomma un po' su un po' giù pensavo meglio tutte queste piattaforme di yield farming spingono particolarmente quando il token in questione è in ascesa poi quando inizia il ciclo ribassista quindi che anziché farmare per oldare tutti farmano per dampare inizia un po' forse una fase di spegnimento una fase di contrazione delle piattaforme in questione però sicuramente questo non toglie nulla pancake swap che vale la pena considerarla grande block five sempre al top do you know Mirko Scarcella mi viene da ridere perché l'altra serie io non guardo praticamente mai la televisione e l'altra sera sono capitato l'ho accesa che volevo accendere la play in realtà e mi è capitato davanti lo speciale delle iene su sto fenomeno qui che ne ho anche guardato 5-10 minuti perché lì per lì cosa sta facendo era il classico fenomeno tutto finto che si andava in giro si faceva le foto con i jet noleggiati e robe così vabbè lasciamo stare mi fa molto ridere novità sulla strategia rsi 2 oh yes la sto testando sto facendo forward testing quindi il testing sui dati in tempo reale in sostanza e sta andando abbastanza bene quindi vi aggiornerò vi aggiornerò ci ho dato alcuni parametri vi aggiornerò anche tu giochi con la play io sono un nerdone incredibile adesso sono un po' indietro perché non ho tantissimo tempo ma l'ultimo gioco che ho finito è uncharted 4 per farvi capire quanto sono indietro giocone incredibile e adesso credo che mi lancerò nel remake di final fantasy 7 quindi facciamo un mega throwback vediamo come va giusto per giochi corti pochi impegnativi allora hai letto la notizia della governance di uni veramente una governance fake sì ho visto che il 98% aveva votato sì ma non è passato la mozione lo stesso sì vabbè li devo approfondire non ho visto bene che cosa che cosa è successo ma è abbastanza preoccupante la cosa ecco dove siamo finiti eccoci qua ciao luca sempre qui sempre gasato ai massimi bravo 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 questo è lo spirito giusto ciao luca un email per poterti contattare in privato per un'eventuale collaborazione allora te la scrivo qua sotto l.boiardi chiocciola decryptogateway.it hopla eccola spammami ai massimi secondo te no dove siamo finiti qua secondo te qual è il momento migliore per tornare un po' più esposti sulle alt? guarda il primo segnale secondo me lo dà la dominance per me è sempre quella che comanda l'esposizione alle alt la dominance che si deve trovare sotto su time frame daily per me sotto le medie mobili 30 e 100 sono i due segnali principali poi gli incroci delle medie mobili 9 30 e 30 100 sono delle ulteriori conferme anche un minimo di analisi tecnica e volendo perché questo ad esempio è un costrutto di bottom che ha appena violato a rialzo quindi ti dice sta lì un attimo sta buono non ti esporre troppo stai un po' tranquillo sulle altcoins io ragiono abbastanza così e mi sono dato anche delle regole precise del tipo che quando c'è il prezzo sopra alla EMA 30 mi espongo al massimo tra il 3 e il 5% quando la EMA 9 incrocia la EMA 30 salgo del 2% di esposizione massima e così via esposizione massima vuol dire esposizione del mio capitale a rischio complessivo ok? nella fetta speculativa ovviamente del mio portafoglio complessivo quindi vi ricordate abbiamo portafoglio fetta cripto nella fetta cripto c'è la fetta bitcoin nella fetta bitcoin c'è la fetta trading che è la fetta speculativa e lì dentro c'è la fetta altcoins la cui dimensione massima dipende dalla configurazione della bitcoin dominance questa è un po' la mia visione delle cose la mia strategia ecco ciao Luca DREP ha un grafico interessante o un buon gain non so se uscire o no help ah 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 non ci siamo eh non ci siamo perché non me lo devi chiedere a me questo devi avere tu un piano cioè perché sei entrato avevi un setup eri trend follower avevi deciso di holdare insomma mi raccomando mai 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 chiedere ma devo uscire secondo te ma devo entrare secondo te perché altrimenti si perde il controllo della situazione per uni la votazione è stata buona per chi detiene uni infatti Dharma con il voto positivo avrebbe iniziato una strategia di governance per fare un airdrop retroattivo agli utenti della sua app c'è stato un po' di così eh che non hanno mai usato uniswap direttamente ah quindi in sostanza volevano volevano fare un airdrop che Dharma cos'è un proxy praticamente di uniswap che utilizzava uniswap ma non direttamente cioè tramite la app lo smart contract dell'app non so non saprei effettivamente insomma anche pensando a tutte quelle app che poi hanno utilizzato storicamente uniswap indirettamente ovviamente ci sarebbe una pioggia di token uni ancora cioè ancora più forte della prima più più importante della prima se facciamo un acquisto di massa per portare su a 12k indiretta ovviamente il mio contributo non sposterte neanche un satoshi di prezzo vai acquisto di massa 3 2 1 boom no basta non è vero mai 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 consigli finanziari ciao Luca ma col bonus di Bybit ah ecco 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 ci siamo ok ero una delle prime scillate che volevo fare oggi col bonus di Bybit è possibile pagare le perdite dei trade grazie? la risposta è sì ti anticipo già e adesso mi tocca apparecchiare la tavola e scillare questa cosa allora sapete che io collaboro con Bybit sono insomma sono in contatto con loro ogni tanto vi scillo il mio riferra link ovviamente tra i vari che a Bybit io lo utilizzo mi trovo bene un ottimo exchange e ogni tanto organizziamo qualche promo dedicata appunto a chi utilizza il mio riferra link e a chi è nella nostra fantastica community ce n'è una nuova di promo dedicata a tutti coloro che appunto sono iscritti col mio riferra link quindi se non lo siete fatelo potete anche creare un altro account insomma il link ogni tanto lo trovate volante nella chat qua oppure per chi ci guarda sul tubo lo trovate in descrizione iscrivetevi costo zero niente particolari sbattimenti non c'è neanche il KYC mi pare oppure opzionale non ricordo bene e in sostanza questa promo si ottiene vi faccio vedere anche come perché magari potrebbe sembrare ostica ma in realtà non la è allora in sostanza se voi andate sotto promotions rewards hub vedete che qua c'è la sezione voucher code se qua dentro scrivete crypto gateway 300 così come vedete anche ogni tanto scillato in chat e cliccate redeem attivate il bonus il bonus è così strutturato allora non me lo ricordo nemmeno io a dire la verità però in sostanza in base a quanto depositate cioè voi depositate una somma e vi da un bonus se non ricordo male è deposita 0,1 bitcoin e ricevi 60 dollari di bonus depositi 0,2 ricevi 120 dollari di bonus e se depositi 0,5 ricevi 300 dollari di bonus che è il massimo questo è frazionabile quindi se voi oggi depositate cioè fate il siete iscritti col mio ref fate il redeem del codice crypto gateway 300 depositate 0,1 vi danno innanzitutto i vostri 60 dollari se dopo domani depositate altri 0,1 vi danno altri 60 dollari perché era 120 e se poi la settimana prossima depositate altri 0,3 vi danno i restanti 180 ok per arrivare al totale quindi è frazionabile in questi termini quando voi attivate il codice vedrete sempre la promo campaign in pending quindi non fateci caso a quello e dopo il deposito il bonus vi verrà accreditato nel giro di un paio di giorni ho letto una cosa dovrebbe essere abbastanza rapido è un bonus che si può usare per pagare le fee dell'exchange per attenuare le perdite quindi se voi fate un trade va in perdita il bonus viene intaccato per primo ovviamente non si può prelevare adesso non è che si può chiedere tutto e il primo prelievo che viene fatto attenzione invalida tutti i bonus che avete un'ultima buona notizia che questo bonus è cumulabile con questi altri quindi con ad esempio First Deposit se voi depositate 0,5 o più avete i 300 completi più questo 50 e più questo 5 e poi questo 5 iniziale se lo seguite su Twitter e così via quindi è tutto cumulabile fino a un massimo di 390 dollari di bonus che via non li si butta 300 qua e 90 qua sotto che dire se voi fate trading usate Bybit e quant'altro è una cosa abbastanza a costo zero cioè veramente l'unica cosa appunto il deposito e basta non c'è da fare nient'altro di particolare poi se dite vabbè ma non mi interessa più voi riprelevate i vostri 0,5 che avete messo quello che è il bonus si annulla e non è cambiato assolutamente niente bene niente basta chiusa la parentesi shilling trovate tutto poi nella chat e in descrizione sul tubo dunque dove siamo eccoci qua forse oggi avremo finalmente il pump in diretta chi lo sa chi lo sa pump non mi importa aspetto candeloni rossissimi futuri per comprare ora relax il god questo approccio ci sta sempre alla fine se uno è un un paccatore un chi mette in pratica un piano d'accumulo lui dice ma che pompi pure che dampi pure io me ne sto tranquillo faccio i miei acquisti ed è un approccio giusto perché non ha senso da holder da investitore di lungo termine non trader stare lì a seguire i pump e cercare di fare timing sul mercato non ha senso bravo mi sei piaciuto ciao luca grafico ether bitcoin arriva assolutamente perché è un'altra coin a rischio molto a rischio se volessi entrare con dei btc con btc che dici aspetto un ritorno sugli 11.5 oppure secondo te ora sale fino ai 12.000 guarda non lo so io ho missato clamorosamente il mio long che era appunto in zona 12.000 ed intorni cioè da 12.000 in giù però per il momento io adesso ne parliamo tra poco non ho intenzione scusate mi è andato mi è salito una bolla d'aria gigante non ho intenzione di longare in quest'area tra poco vi spiego il perché bitcoin è in crescita ma la market cap non sale forse non è il caso di gasarsi plot twist no effettivamente ha un'osservazione molto intelligente perché la market cap è molto molto importante molto importante e tra poco potremmo anche analizzare lei io avevo l'hashtag tieni duro perché stava adesso per fortuna è risalita un po' l'ultimo live eravamo qua e stavamo lottando con il supporto con un supporto importante per la market cap perché considerate che questa sconta sia il 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 trading il prezzo quindi il pricing di bitcoin che quello delle altcoins perché magari c'è una diluizione uno spostamento di capitale tra bitcoin e le altcoins o viceversa come sembra succedere oggi quindi le altcoins calano bitcoin sale e la market cap rimane uguale quindi non è che c'è tutto questo inflow di capitale dall'esterno e quindi giustamente come ha fatto notare il nostro amico in questa situazione non c'è un effettivo appunto inflow di capitale dall'esterno quindi è meno bullish come cosa qua che dire la situazione non è male perché anche qui è stato fatto il reclaim vedete tac 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 quindi c'è questa W cioè in realtà abbiamo fatto un top qui col doppio massimo poi abbiamo perso il supporto retest poi l'abbiamo reclaimato quindi non è male come configurazione a patto che ovviamente adesso continuiamo e che non facciamo così perché se facciamo così siamo più fessi di prima quindi niente bene la market cap però occhi puntati giustamente quindi sì non gasiamoci troppo io mi stavo già gasando adesso mi hai spento tutto l'entusiasmo no allora buonasera Luca buonasera anche a te grande 100% crypto team video libertà finanziaria è questa guarda in realtà a me cioè a me piace io non mi ci vedo a non lavorare io odierei una vita dove non faccio niente e vivo solo di rendita o cose di questo tipo cioè mi sentirei veramente inutile e non è il mio obiettivo non è la mia aspirazione la mia aspirazione è portare avanti passioni come possono essere le crypto e trasformarli in un lavoro probabilmente lavorerò ancora di più di quanto sto lavorando adesso ma lo farò gasatissimo e quindi è questo che mi gasa cioè non l'idea di stare lì e non far niente su una spiaggia o su una piscina o cose di questo tipo ma proprio il mettere il 110% della mia energia come il super bonus per la ristrutturazione in una cosa che mi appassiona e che posso posso trasmettere magari anche ad altri posso aiutare qualcuno ad imparare tutte cose di questo tipo quindi questa è la cosa che mi piace di più in assoluto di questo salto di qualità pump 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 live pump ciao prima live pump in diretta buonasera a tutti ciao finalmente in tempo per una live ciao Luke siamo gasati ai massimi pump to the moon via così così facendo bitcoin non ci puoi ignorare incredibile che EOS tenga in tutto questo dampare allora EOS oddio io non l'ho più seguito però tenga sta tenendo parliamone dai parliamone proprio EOS EOS boh non lo so tra un po' va a scavare talmente a fondo che trova il nucleo della terra credo no vabbè agghiacciante è un grafico terrificante agghiacciante no no vabbè direi che non sta tenendo granché mi merito delle shitcoin per festeggiare grande cinque mesi a fila mamma mia The Business Zen è uno delle nostre colonne portanti perché è un po' sempre presente fa sempre domande è sempre sul pezzo quindi grandissimo e si abbona ogni mese se avete Amazon Prime Shield Time anche qua potete integrarvi con Twitch Prime e abbonarvi al mio canale a costo zero facendomi un piccolo contributo ogni mese dovete rinnovarlo e se lo fate vi ringrazio di cuore grazie davvero e grazie a te ovviamente The Business Zen per averlo fatto da cinque mesi hai visto che sui savings di Binance hanno listato Polkadot no non ho visto non ho proprio visto ma con che tassi andiamo a vedere Finance Binance Earn allora Flexible vediamo vediamo un po' eccolo dot 2.22 IPY c'è di meglio c'è di peggio considerando che è un po' volatile non lo so non lo so non credo euro euro ma questo da dove è uscito da dove fa il coin mamma mia che qua si potrebbe parlare euro mamma mia interessante peccato che è solo del 2,49% però euro sapete io nelle Cefai che diversifico un po' in quelli che chiamo la triade che sono Celsius Nexo e BlockFi per l'appunto utilizzo Nexo soprattutto perché permette di essere esposti in euro e quindi non in dollari che anche la differenziazione valutaria del portafoglio non è da sottovalutare sul lungo periodo può impattare ad esempio nel mio pack sugli ETF che prima o poi ve lo mostrerò perché so che siete interessati tendo in considerazione anche i cicli euro-dollaro perché se comunque si fa un investimento previdenziale chiamiamolo destinato a lunghissimo periodo ovviamente non si può trascurare la valuta ok quindi sapete ci sono gli ETF si chiamano euro-hedged e quelli un-hedged quindi se per dire acquistato un ETF sullo standard and poor 500 ovviamente è quotato in dollari e siete esposti al dollaro ovvio questo però esiste anche la versione euro-hedged quindi che in sostanza vi copre dal cambio euro-dollaro ed è come essere in euro fondamentalmente ok quindi quando l'euro è forte vogliamo l'euro-hedged quando il dollaro è più forte dell'euro non vogliamo l'euro-hedged e questa digressione per dire che un po' di esposizione all'euro anziché all'USDT USDC e di qua e di là e dai tutti legati al dollaro male non fa però vabbè 2,49% i PY non è che proprio esalti meglio nexo ancora niente digressioni su digressioni ritorniamo sulla terra ciao Luca che ne pensi del token Wirex non ne ho mai avuto uno però effettivamente un'utilità ce l'ha perché come si chiama ti riduce le fees insomma c'è qualche qualche perk anche lì la Wirex l'ho praticamente lasciata in disuso non lo utilizzo più perché non mi piace il canone fisso c'è alcune c'è l'un per cento di commissioni che comunque in linea con il resto c'è di meglio sul mercato insomma hai seguito ieri il talk del meeting IMF non hanno mai nominato bitcoin mi pare sono una volta libre ma hai la parola blockchain guarda a tal proposito ne volevo parlare ieri c'è stato il c'è stato un panel del fondo monetario internazionale l'IMF in cui parlava anche Powell che è il presidente il chairman della federal reserve ok Jerome Powell e quindi insomma notevole come come board che parlava e parlavano di delle CBDC delle famigerate CBDC quindi le criptovalute di stato central bank digital currencies e cercavano di inquadrarle nel quadro macroeconomico attuale e futuro potenzialmente come non sostituto del contante quindi ovviamente perché il contante è ancora molto desiderato c'è domanda e verrebbe vissuta come imposizione togliere il contante dall'altro però deve essere una non minaccia per le banche che anche lì parliamone cioè come si fa a concepire una cosa così dire voglio fare la moneta la criptovaluta di stato un euro digitale immaginiamoci noi che siamo ovviamente europei e dire che non deve non deve andare a far la lotta alle banche cioè immaginatevi di poter avere un wallet vostro dove potete detenere effettivamente i vostri euro che sono lì esattamente come i vostri bitcoin sono nel wallet e potete mandarli in maniera rapida istantanea ovunque cioè chi mai andrebbe ad aprire un conto bancario ok certo ci vorrebbero servizi di investimento per chi vuole investire eccetera eccetera però cioè andrebbero a ridursi in maniera catastrofica il numero di conti bancari quindi cioè implicito nell'essere una CBDC il far concorrenza alle banche quindi già questo discorso non lo so non mi è piaciuto e poi c'è la famigerata domanda privacy o non privacy quindi la facciamo trasparente e cioè trasparente ovviamente non per tutti per la banca centrale per chi ci mette il naso e quindi in sostanza una moneta elettronica poco diversa da quella attuale o la facciamo privata quindi le banche centrali non possono vedere cosa succede chi la muove dove la muove dove va a finire e quindi manteniamo la privacy del contante io credo di sapere dove si tenderà ad andare a finire però chi vivrà vedrà a tal proposito io vi lascio vi incollo questo link perché potete scaricare un pdf qui guardate che l'ho già scaricato in realtà potete scaricare un pdf che riassume il panel i contenuti del panel è ben fatto interessante una letta se la merita sono una quarantina di pagine quindi è un po' un mattoncino però perché no dai dateci una letta se vi interessa chiusa parentesi qui volevo ancora scillarvi la promo di BlockFi ma per oggi mi sa che non lo faccio dai se no poi non ne potete più dei miei scill c'è la promo di BlockFi con un bonus fino a 275 dollari ne ho già parlato per chi fosse interessato insomma trovate tutte le regole su Telegram l'ho pinnato dai leggetela lì non fatemela scillare ancora allora ritorniamo a noi tra poco andiamo a vedere i grafici le ultimissime domande ho creato l'account su BlockFi e spostato un po' di USDT grande Marco grandissimo grandissimissimo ora non resta che holdarli fino al 15 di gennaio e tac ciao Luca finalmente riesco a seguirti live ti ho scoperto dopo il video le altcoin crolleranno e da allora ti seguo sempre su YouTube per iniziare a ringraziarti abbonamento Prime guarda innanzitutto ti ringrazio di cuore per l'abbonamento e per le belle parole mi fa piacere che tu sia riuscito a essere qua live e grazie per esserti presentato e fatto vedere spero che ci saranno altre occasioni di rincontrarci live e fai tutte le domande che vuoi effettivamente io ero andato un po' contro tendenza un po' di tempo fa quando c'era il periodo che le altcoin erano in bolla clamorosa che c'era band che andava esplodendo e io ho detto sa faccio un po' i rompicoglioni ho detto le altcoin crolleranno preparatevi che non dura sta roba ma non è cioè non voglio sembrare un fenomeno un ostradamus ok è il mercato che funziona così cioè tutto quello che sale in maniera parabolica poi ti crolla sulla fronte e ti fa un gran male basta tutto lì non ci vuole una dote di cioè non ho fatto nessun tipo di miracolo ma se faccio un trade direttamente su blockfi dopo averne depositati ottengo comunque il bonus allora mi viene da pensare di sì ti direi di sì però fai così senti il support nel dubbio sono molto reattivi e ti rispondono in fretta mi viene da pensare di sì perché l'importante è che rimanga il controvalore almeno alla soglia però senti il support per l'appunto due domande cro e egld il famigerato elrond gold ciao luca volevo dirti che sarebbe bello se il tuo canale si spostasse un po' di più verso la defy e il farming approfondito perché no è interessante è un tema valido sì vale la pena spingere un po' di più inoltre sarebbe bello avere una live in seconda serata del tipo 21 30 22 potresti anche scindere i temi delle live in base ai giorni scusami se ho espresso la mia idea ps ogni tanto zoom allora innanzitutto non ti devi scusare se hai espresso la tua idea anzi devi esprimere la tua idea esprimete sempre la vostra idea anche se critica soprattutto se critica grazie per il suggerimento guarda per l'orario l'unica cosa che mi frena è che se mi metto anche la sera dietro le cripto probabilmente ne esco completamente pazzo quindi adesso vediamo quando quando sarò libero cercherò di dare riassettare un po' le giornate capire un po' come gestirmi il tempo non escludo che potrà succedere vediamo dai vediamo è tutto un divenire adesso ricominceranno tra poco i sondaggi su telegram sulle mie live per ristrutturarle per l'appunto quindi fatevi sentire anche lì e votate ai sondaggi allora amici io adesso giro ho visto una domanda evidenziata io chiederei una spiata link magari un'opinione su BTC ok allora adesso andiamo a vedere i grafici allora benissimo benissimo io giro e andiamo a vedere i grafici stessi allora partiamo da bitcoin partiamo da bitcoin che al di là di pump in diretta che lo lascio non si sa mai che se si è un po' fermato ha una bella configurazione non c'è niente da dire perché perché allora la sua configurazione ripartendo dal macro è bullish il macro non c'è niente da fare è bullish come vedete questo è il settimanale abbiamo avuto il dump di marzo che è stato immediatamente riassorbito abbiamo riconquistato i livelli più importanti in poco tempo abbiamo rotto temporaneamente perché parliamo di qua lo scorso top di chiusura in zona 11500 poi c'è stato un apparente dump che ci ha fatto perdere quel livello tanto da farci da instillarci il dubbio se fosse un falso break oppure no solo che poi l'abbiamo riconquistato col famoso reclaim di pochi giorni fa quindi il macro è estremamente bullish ovviamente chiudendo questo costrutto di bottom gigantesco vedete questa cosa qua con un bel papam così sarebbe il massimo dei massimi andiamo a vedere più da vicino più da vicino c'è il daily il daily cosa ci dice ci dice che abbiamo questo top in lateralità il nostro famoso range iniziale che ha come bottom 11k livello chiave più importante del momento l'abbiamo perso a ribasso abbiamo creato un altro range qui all'interno che poi è diventato un triangolo e poi la domanda ha vinto recuperando gli 11k primo segno bullish il primo in realtà era il breakout dal triangolo interno al range però non si può paragonare la significatività di un segno così con il reclaim effettivo degli 11k sono due cose veramente diverse per magnitudo poi abbiamo avuto una candela dal resto subito che ha spazzato liquidità e creato questo range interno ok fatto anche il verso come se fosse una spada laser il famoso il dart maul pattern qualcuno lo chiama e ci abbiamo ci siamo rimasti dentro per un po' di giorni con volume in contrazione volatilità in contrazione operatività quindi ottimale short volatility per chi vuole heggiare le sue posizioni durante questi periodi dopodiché abbiamo avuto un impulso di domanda ok abbiamo intanto vabbè avuto in realtà anche un po' di flessione io mi aspettavo avevo aperto la posizione long come condiviso su telegram in quest'area ok dai 12k in sostanza fino a scendere ok quindi 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 dove era aspettate qua allora 12k 11.200 volevo dire scusate a scendere quest'area che vedete dipinta in verde con rettangolo verde come mai qui perché conteneva il pool di liquidità che abbiamo bucato per fare il break e il cluster intermedio che fungeva da supporto da livello di resistenza barra supporto storico ok quindi questa era la mia entry area missata clamorosamente e quindi niente adesso stiamo continuando a salire c'è da dire che qua sopra la testa abbiamo una resistenza veramente notevole perché ne abbiamo allora una locale innanzitutto che è costituita da questa piccola area che sta tra gli 11.730 e gli 11.950 questo è uno dei due top e questa shadow è il bottom in sostanza di quest'area di resistenza che apparentemente oggi ce la stiamo sbranando oltre alla resistenza locale che tra l'altro contiene anche questo questo livello qua che è 11.820 come scelgo i livelli e la loro significatività ve l'ho detto tante volte ma lo ripeto ancora perché è un concetto a cui do molta importanza laddove ci sono delle formazioni puntiformi tipo questa o questa il livello che le delimita acquisisce significatività e quindi lo proietto in avanti come area chiave o anche pool di liquidità in domanda in offerta dipende da dove si trovi da come si inserisce nel contesto in un contesto di questo tipo ovviamente rendono più ampia la zona di liquidità in offerta infatti vedete che ci stanno volendo un po' di volumi per mangiarcela ok ci sta poi sopra cos'altro abbiamo questo tac questo è anche una formazione puntiforme quindi abbiamo questo livello aspetta che lo vado ad aggiungere proprio oppla ci stiamo parlando dei 12.300 e abbiamo anche la shadow top che è il vecchio spike di liquidità che si trova a 12.170 e infine abbiamo il top assoluto 12.500 quindi questa è un'altra resistenza ok quindi cosa cosa ci dice tutto ciò ci dice che non sarà facile andare ad attraversare tutto questo perché qua dentro ci sono insidiata tanta offerta qualora ovviamente ci sia interesse nel mantenere la loro posizione aperta ok quindi questa area tutta fino ai 12.500 sarà un'interessante sfida per capire c'è abbastanza spinta non c'è abbastanza spinta non mi stupirebbe ad esempio adesso vedere magari un follow up di domanda poi un po' di soppressione perché è impossibile bucarla così come se niente fosse cioè sarebbe veramente una roba esplosiva pazzesca non me l'aspetto ma aspetto sì la domanda che spinge perché sta spingendo ma poi mi aspetto che l'offerta faccia il suo gioco dica aspetta un attimo io ti dampo in testa e magari c'è un po' di flessione rimaniamo magari un po' qua dentro e poi si vedrà chi vince delle due va bene quindi questa è un po' la mia idea per questa ragione io non sto allungando bitcoin in sostanza perché in questa siamo nel pieno del costrutto di top ci troviamo al suo interno proprio nelle sue membra e ci sta per un'operatività intraday chiaramente il bias adesso è bullish e avremmo anche questo supporto 11.550 avremmo quest'altro supporto a 11.900 e qualcosa se ci chiudiamo sopra per un'operatività molto stretta molto intraday che non è quella che solitamente faccio su questi intervalli ok io sono più tendo ad essere più rilassato poi ripeto vi ricordate che avevamo iniziato insieme imparare il trading intraday col forex e adesso una delle prime cose che farò quando sarò libero è rimettermi subito lì a seguire questa strada anche in ottica di diversificazione del portafoglio un'operatività in più che male non fa e ci butterò dentro un po' anche le cripto vediamo ne parleremo ancora non preoccupatevi non è che l'ho fatta sparire nel vuoto ma richiede veramente tanta tanta concentrazione tempo pianificazione è un lavoro in più in sostanza ne parleremo più avanti quindi questo è il mio quadro su BTC il bear scenario invece sarebbe la perdita di questo di queste ultime due candele quindi il rientro se vogliamo proprio dare un livello di prezzo il rientro negli 11.500 qualcosa qua sotto e andrebbe probabilmente a ripescare poi liquidità dall'entry area finalmente forse non lo so io tengo come possibile entry di nuovo qua se andiamo a flettere altrimenti aspetto di vedere la reazione con tutta questa zona per aprire un trade long non ho nessun tipo di fretta perché ripeto ricordo per chi magari non ha visto tutti i miei video ci può stare che il trading per me è una piccola fetta del capitale ok il grosso in realtà è in hold quindi è un investimento detenuto lì e pertanto non è che ho paura di perdermi qualcosa di rimanere senza bitcoin mentre galoppano non è l'approccio da trading nel trading non te ne deve fregare nulla che tu entri a 10.000 o che tu entri a 30.000 l'importante è che entri con un setup che va a profitto quella è la cosa importante allora poi andiamo a vedere le altre charts le altre altcoin principali ve l'ho detto allora BNB innanzitutto BNB spaventa spaventa parecchio perché allora ha fatto un costrutto che sembrava bello questo triangolo ok così che è stato rotto a rialzo poi siamo andati a cozzare su questa area vi ricordate il pool di liquidità in offerta famigerato che si è fatto ancora più forte perché qua hanno sciortato parecchio mi sa hanno sellato di brutto e poi c'è stato questo doppio candelozzo rosso che è veramente brutto è andato a fare un lower low prima cosa che a me veramente non piace sotto il 0.0025 e adesso stiamo sfidando questo supporto a 0.0024 che è il supporto chiave più importante in assoluto in quest'area e quindi che dire io la mia intenzione se perdiamo questo supporto è di chiudere la posizione speculativa su BNB e se ne può riparlare in caso di allora immaginiamoci una cosa di questo tipo se ne può riparlare in caso di 1 reclaim visto che qualcuno prima ne parlava e lo chiedeva reclaim del supporto stesso 2 breakout ovviamente dal doppio massimo e dal pool di liquidità chiaramente 2 è maggiore di 1 si è matematica di prima elementare ma non nel senso stretto dell'equazione ma nel senso che il caso 2 sarebbe estremamente più significativo dell'1 perché l'1 è un reclaim è un segno anticipatore ovviamente higher risk higher reward il 2 invece sarebbe un breakout da un pool di liquidità dopo uno scarico che quindi diventa una deviation un higher high da un doppio massimo insomma roba un po' più forte ecco basta cancelliamo tutto non ho mai detto niente questo 2 maggiore di 1 passerà alla storia ma perché mi si continua ad attivare Siri stai zitta lì stai ferma lì non ti ho interpellato allora e basta vediamo se invece per dire dovesse arrivare una bombardata di domanda che tra oggi e domani mi fa una roba del genere vabbè io non faccio niente in particolare se mi fai il reclaim di questo low ok che sarebbe 0.0025 circa in quel caso lì si parlerebbe comunque di una struttura che tiene abbastanza bene e si può tenere una posizione Ethereum eccoti Ethereum pure lui sta facendo un giochetto che non mi piace che è quello di scendere qua sotto sotto a 0.0318 questo livello qua ok questo vi ricordate il discorso di il cluster intermedio settimanale questo verde a 0.0334 335 anzi eravamo fin qua dentro eravamo dentro al range poi abbiamo rotto a ribasso retest tac retest si è formato anche qua un doppio top nonché pool di liquidità in offerta che per ora è gravoso è pesante sta respingendo se respinge al punto di fare un lower low e andiamo a gravitare qua sotto io saluto ciao ci vediamo più tardi Ethereum dal punto di vista speculativo attenzione non parlo dei miei old parlo della speculazione e basta e questo è quanto quindi se andiamo a chiudere delle candele in questa zona quindi più in basso di qua senza domanda che si fa vedere quindi con poi domanda magari scarsa io chiudo ed esco ok l'altra parte l'avevo già chiusa se vi ricordate e sono pronto a chiudere anche la seconda parte per poi eventualmente aspettare più in basso tipo a 0.028 oppure 2526 quest'area qua questo è un po' Ethereum e altrimenti il bull case sarebbe ovviamente il reclaim del 0.0335 qua tac questo sarebbe un renderebbe una deviation tutta questa zona qui poi allora cosa mi avevate chiesto cro cro btc btx ok ex cro btc male male terribile terrificante si sta mangiando tutto questo pump questo e al momento non c'è cioè pazzesca sta cosa non c'è una candela verde guardate quante candele rosse una dopo l'altra è veramente mostruoso cioè non c'è ragione di fare delle mosse long di aprire setup long perché non c'è nessun tipo di swing low c'è una caduta libera è come se stesse crollando nel vuoto gravitando nel vuoto e dico io essendo interessato comunque al servizio della carta un pensiero ce lo farei solo per quello non a scopo speculativo cioè è una cosa caspita mi mette anche in difficoltà anzi perché vedere una caduta libera del genere mi mette molto 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 in difficoltà non lo so sono curioso di vedere dove troverai low e come reagirà sperando che faccio un costrutino di bottom il prima possibile altrimenti mamma mia mamma mia non pensavo fosse così brutto il grafico cioè proprio brutto ma che roba cioè tutti rosse pazzesco aiuto 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 e allora poi cos'altro mi avevate chiesto vediamo un attimo non è male il tasso di Polkadot in saving credo io calcola che anche il tasso USDT è sceso dal 4% al 2 auto sì 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 è vero non dico che sia malissimo orribilante dico solo che è una coin volatile e quindi non lo so non mi addosserei cioè ovviamente se uno la vuole holdare ben venga cioè se uno holda una coin oserei dire che è quasi un must trovare il modo di metterla a rendita quindi è ottimo però non so non saprei lo lascio qui per tutti i beggars interessati alla promo blockfi come me con coinbase earn ho raccimolato 40 dollari in varie altcoin li ho prontamente convertiti in USDC direttamente sulla piattaforma e mandati su blockfi ora si attende il bonus grande hai farmato a costo zero bellissima mossa bravo 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 serve un giardamento un perp su cro esatto se volessi fare l'upgrade oltre la ruby non mi accollerai questi movimenti bravo hai detto bene perché affinché sale tutto bello ma quando dump insomma sarebbe bello è vero poter fare un edge short in modo che quando ci sono questi dump qui tu ti copri almeno non perdi quanto ha perso pensate chi aveva le carte di più alto livello il 40% mamma mia cioè il problema di di quelle carte di quelle piattaforme che ti costringono a vincolare i loro token è questo che i token sono volatili e finché salgono è tutto bello ma quando iniziano a contrarsi che non è che possono salire per sempre diventa meno bello ahimè quindi si ci vorrebbe un metodo per pararsi un po' il di dietro in questi casi tipo un bel future da shortare finché si ha la carta rossa è tollerabile ma successivamente no è vero il progetto crypto.com è comunque valido tornerà su guarda io sono d'accordo nel senso non penso che sia uno scam né niente anzi penso che sia valido anche perché è veramente un colosso ormai è uno dei colossi e tornerà su lì c'è da vedere perché bisogna sempre distinguere prezzo e valore attenzione perché il prezzo di un token lo fa il mercato il valore di una piattaforma è in dubbio in questo caso però a volte si distingue un po' dal prezzo croused andiamolo a vedere croused sempre su ok ex croused è meno violento perché c'è bitcoin che non sta andando male però comunque ha segnato un meno 40% dal top e quindi insomma insomma supporti vediamo se c'è qualche supporto il più c'è questa candela iniziale qua che non so manco quanto possa valere che la zona iniziale di un grafico è sempre un po' fine a se stessa 0.10 quindi adesso se volessi la green cosa sono 10.000 cro no quant'è 10.000 cro per cioè in sostanza diviso 10 1.000 dollari vabbè cacchio ha regalato è un buon prezzo tenta quasi quella da 100.000 cro tenta parecchio tenta parecchio vediamo dai continuate a dampare cro dai continuate a dampare cro così io prendo quella da 100.000 basta non vi faccio arrabbiare ulteriormente andiamo avanti chiamel però forse cro su ok ex non so se fa testo è che purtroppo altri exchange c'è uo si uo ob magari che alla fine il pricing è un po' uguale e anche credo il c'è il primo forse è stato listato prima su ok ex altrimenti altrimenti vediamo cosa c'è bitrex che non avrà volumi it btc che vabbè lasciamolo pure lì dov'è sono questi sono questi purtroppo vabbè questo è in dubbio comunque non toglie nulla all'andamento di cro swipe l'abbiamo visto all'inizio swipe è un un'altra coin che sta grattando il fondo del barile allora sxp btc bello 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 ve l'ho detto è un grafico che urla di dolore sembra tipo ripple c'è un supportino qua in zona 8533 e perché è rosso ho già probabilmente realizzato il momento in cui diventerà una resistenza perché verrà bucato anche lui ma ha veramente non lo so è disastroso questo grafico non c'è nessun tipo di setup long in vista è tragico your finance andiamolo your finance andiamolo a vedere che anche lui è bello in sofferenza è nel pieno di un cluster di supporto e però è bello in sofferenza ecco questo è un altro caso in cui la platform è bellissima è ottima la coin ha un grafico tragico tremendo terrificante ci sarebbe come primo segno di possibile ripresa che si palesi domanda e questo rimane come supporto un reclaim di 1.8 e poi magari cominciamo a costruire un po' di basi per creare un bottom locale non lo so per adesso è agghiacciante molto molto agghiacciante ma non era in collaborazione con Binance swipe sì 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 è in collaborazione con Binance ma purtroppo non vuol dire cioè a volte si danno per scontate delle cose che scontate non sono a me spiace quando quando vedo che magari qualcuno investe in una coin dicendo si c'è dietro un buon progetto ok però il progetto come si integra con la coin cioè qual è l'economia del token cos'è che dà valore concretamente al token è sempre sostenuto questo valore nel tempo verrà sostenuto nel futuro oppure no perché altrimenti diventa mera speculazione è un po' così un po' bruttino ecco scusa la domanda ma non ne so praticamente niente ora stai mostrando l'andamento di alcune criptovalute cosa sono tipo Wobi no allora in sostanza io stavo guardando prima il grafico di Crypto.com la coin la cro la coin cro cro in particolare USDT e quello che vedi qua di fianco dicevo KX Wobi così sono degli exchange Tradingview prende i dati ovviamente da diversi exchange e cercavo il meno peggio perché vedete la cro è listata su che è integrato con Tradingview HitBTC Bittrex OKX e Wobi e KuCoin forse va beh KuCoin anche lui non avrà volumi granché e il meno peggio secondo me era OKX oppure Wobi perché gli altri hanno volumi inesistenti HitBTC non so come faccia ad essere ancora vivo e e basta niente qua sono exchange comunque Luke cosa ne pensi di PancakeSwap ottimo 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 mi piace mi piace PancakeSwap ne abbiamo parlicchiato prima lo sto ce l'ho nella lista di quali da approfondire assieme a Barnbridge che me l'avete scillato in tanti e secondo me c'è un motivo è valido la DeFi in generale su Binance Chain ho interesse ad approfondirla e magari anche Alpha quelle lì di Binance nuove Alpha come si chiama Injective Protocol sembra interessante analisi fondamentale SushiSwap SushiSwap ha perso tantissimo volume ha perso aspetta era su DeFi Pulse mi pare ha perso tantissima liquidità e tantissimo volume SushiSwap è finito qua giù ed è in continuo calo ahimè non so come mai non l'ho più seguito a dire la verità dopo la la follia iniziale dopo che Uniswap ha dato fuori il suo uni al momento c'è il farming su Uniswap quindi è facilmente comprensibile anche come mai tutta la liquidità sia lì la liquidità segue un po' dove ci sono i tassi più vantaggiosi dove ha più vantaggio ma è normale è prettamente umano amici io vi ringrazio di avermi seguito no scusate solita figura da pirla che ho aperto il grafico della liquidità di SushiSwap nella finestra sbagliata ecco niente tutto qua comunque niente vi dicevo amici miei che dopo questa bellissima tolla io vi saluto sopra i 12.500 to the moon ma è pompato non illudetemi che sia pompato quando non lo è ecco infatti anche oggi niente pumping diretta a sto punto speriamo nel pumping differita chi lo sa che entro domani o in questi giorni ci combini qualcosa io lo spero ovviamente perché più bitcoin sale più l'interesse verso bitcoin cresce di solito e quindi io per non saperne leggere né scrivere preferisco vederlo aumentare anche perché porta nuovi amici nel canale nuovi amici nella community cresciamo tutti quanti insieme e mi sembra mi piace pensare che più siamo e più il livello di conoscenza media in giro nel nostro paese perlomeno sul tema cripto e bitcoin aumenti e a me piace l'idea che in italia ci sia una community attiva consapevole che sa quello che sta facendo anche grazie comunque a chi ci si fa portavoce di questi temi ovviamente non parlo solo di me parlo anche degli amici colleghi che hanno altri canali hanno altre piattaforme hanno altre community che stanno facendo un lavoro pazzesco ed è grazie a loro anche che la community italiana è sempre è una delle migliori ed è stato affermato da tanti detto questo dopo questa flexata vi saluto vi faccio un augurio di buona serata speriamo che bitcoin pompi e ci vediamo in live questo venerdì non mancate sperando che saremo già sopra i 12k di nuovo buonasera alla prossima vi saluto